buona giornata amici da massimo foghetti oggi è giovedì 31 marzo 2022 e anche marzo se ne va marzo con le sue giornate assolate oggi però il tempo è cambiato lo vedremo dopo un po di pioggia non fa male alle campagne soprattutto dove cominciava a temersi la siccità oggi dicevo è giovedì 31 marzo il sole sta sorgendo anzi è sorto alle 6 52 tramonterà oggi alle 19 e 32 il calendario dei santi oggi festeggia san beniamino san beniamino era il fratello più piccolo dei dodici figli di giacobbe vi ricordate la vicenda di giuseppe che andò in egitto perché fuggì in egitto dove fu venduto come schiavo dai fratelli e poi invece divenne il favorito del faraone ma il beniamino di cui si festeggia la festa oggi non è quel beniamino è un altro è un altro santo che visse nel 400 in persia per la sua fede cristiana allora le persecuzioni ancora continuavano nell'estrema parte dell'impero ebbene finì sotto le persecuzioni di re isdeberge che lo tenne in prigione per due anni a liberarlo però ci pensò l'ambasciatore dell'imperatore teodosio che trattando la pace con il re di persia ottenne anche la liberazione di beniamino ma beniamino una volta liberato non cessò di predicare la fede cristiana e quindi fu imprigionato ancora una volta questa volta però fu anche condannato a morte e la sua morte purtroppo fu atroce infatti fu condannato ad essere ucciso trafitto da molti molti spilloni questa è una morte ovviamente particolare che si combinava a quel tempo ma oggi si festeggia anche santa balbina non ci saranno molti molte persone che hanno questo nome però la santa insomma è con tutto il rispetto e da venerare veniamo anche alle previsioni del tempo vediamo come la cartina delle marche è cambiata rispetto alle giornate trascorse vediamo come al sole che era punteggiato in tutta la regione vediamo che sono state sostituite le nubi con qualche segno di pioggia condizioni di instabilità sulle marche con piogge rovesci sparse per gran parte del giorno le temperature sono in calo i venti sono moderati il mare è molto mosso e apriamo il giornale a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano questa mattina dove si parla di ferrovie si parla anche poi sul resto del Carlino perché è un tema che è stato trattato l'altra sera in consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere del partito democratico Enrico Fumante RFI ha detto no alla pista ciclabile nei pressi dei binari a fianco della ferrovia Fano Urbino seri in cassa purtroppo dice le nostre intenzioni erano diverse volevamo appunto che la pista ciclabile fosse parallela ai binari della ferrovia in realtà questo non è possibile hanno detto i tecnici delle ferrovie dello Stato e quindi si accetta la soluzione proposta dalla regione Marche che è un itinerario diverso un po' lontano dai binari dalla ferrovia che utilizza anche tratti della viabilità esistente se rincassa però rilancia ci candidiamo a realizzare l'opera all'interno dei nostri confini ovvero all'interno del comune di Fano e poi abbiamo altre infrastrutture che salgono alla ribalta riqualificare viale Kennedy e via Roma pedalando in questo caso si tratta della pista ciclabile di viale Kennedy che viene tutelata con un cordolo per impedire l'ingresso da parte delle auto e poi la trasformazione del marciapiede di via Roma in proseguimento della pista ciclabile di via Giustizia e di viale Kennedy e appunto è in pista ciclabile. L'assessore Tonelli, l'assessore dei lavori pubblici dice sarà realizzato un cordolo e stabilito il doppio senso di marcia in queste viabilità protette, in queste strutture protette. E poi si parla della banca di credito cooperativo sulla seconda pagina del Corriere Adriatico. La banca di credito cooperativo ha approvato il bilancio consultivo relativo al 2021 che ha prodotto un utile di 2,1 milioni di euro. La crescita rallenta rispetto agli anni scorsi ma non si arresta. L'istituto fanese è anche risultato primo nella classifica MF Index delle eccellenze regionali. È un dato che spicca quello del utile di bilancio della banca di credito cooperativo che si evidenzia per i suoi impieghi nel territorio, soprattutto per quanto riguarda le sponsorizzazioni. È un istituto che investe molto nelle pubblicazioni che riguardano le realtà locali ma anche sostiene molte molte iniziative, il carnevale, passaggi, insomma tutte le principali iniziative dell'amministrazione comunale che si svolgono a Fano vengono sostenute anche dalla banca di credito cooperativo. E poi c'è stato un annuncio l'altra sera in consiglio comunale da parte dell'assessore al commercio Etienne Lucarelli il quale ha detto che si continuerà anche quest'anno a rendere esecutivo il progetto Fano Plenare. L'assessore Lucarelli conferma il progetto per il suolo pubblico quindi gli operatori potranno utilizzare lo spazio pubblico a particolari condizioni di agevolezza per incrementare appunto gli spazi a disposizione ma anche la possibilità di ripianare i bilanci che certo non sono facili da chiudere in questo tempo di pandemia e di aumento del costo della vita. E poi dobbiamo riferire di un lutto. È morto Colarizzi, Rodolfo Colarizzi, lo scrittore fanese. Era stato colto da un malore circa una settimana fa. Era stato ricoverato prima al pronto soccorso del Santa Croce, poi i medici rendendosi conto della gravità della situazione. Lo avevano trasferito all'ospedale San Salvatore di Pesaro dove era stato ricoverato in rianimazione. Era stato anche sottoposto all'intervento di emodinamica. Purtroppo però Colarizzi, Rodolfo, non si è più riavuto ovvero è rimasto sempre in coma e ieri mattina intorno alle 9 il decesso. Si è spento così un scrittore prolifico soprattutto un personaggio che amava la sua città pur risiedendo fuori per molto tempo della sua vita. Aveva trascorso molto tempo sia a Bologna che a Milano. Era diventato un informatore scientifico, era laureato in farmacia, era all'indipendenza di una nota a casa farmaceutica e aveva cominciato a scrivere interessandosi di diabete. Poi invece la sua vena di scrittore aveva debordato e si era occupato di tanti racconti, novelle, romanzi. Insomma veramente uno scrittore che amava comunicare quello che pensava agli altri ma lo faceva con un tale garbo, con una tale gentilezza che questo colpiva le persone che gli stavano accanto e forse la gentilezza, la signorilità era la caratteristica della sua personalità. Mappa del Verde disegnata dalla Satellite. Un articolo che riguarda la risposta che l'assessore Barbara Brunori ha dato una interrogazione l'altra sera in Consiglio Comunale. Si tratta della cura del Verde che è stata sollecitata dal Movimento 5 Stelle e l'assessore Barbara Brunori ha annunciato la novità di una mappatura attraverso il satellite. Ogni pianta sarà controllata e di essa sarà fatta una scheda dove verranno segnate le potature e le cure di cui sarà stata fatta oggetto in modo da garantirne la vita, la sopravvivenza nel modo migliore. Mappa del Verde disegnata dal satellite. Giriamo ancora la pagina sul Corriere Adriatico e vediamo Fossombrone. La riattivazione di 29 posti letto dedicate alle cure intermedie. È una novità che emerge dalla visita che il Presidente del Regione Marche, Acquaroli, ha fatto all'ospedale di Fossombrone. La ripartenza è stata segnalata al 4 aprile e c'è chi ha colto interessanti indiscrezioni di corridoio intorno a questa visita che potrebbero riguardare provvedimenti in sospeso da anni indispensabili per la riqualificazione dell'ospedale. Tuttavia queste indiscrezioni non vengono rese note perché si dice che in certi contesti la prudenza non guasta e quindi il giornale ci pone un là però questo là rimane qua, insomma non emerge nella sua chiarezza. A riattivazione di 29 posti letto ci accontentiamo di questa notizia. A frontone sale sul marciapiede il pubblico via al cantiere da 90 mila euro. Unirà il capoluogo a sentiero del Conte e intanto riaprono le strade provinciali del Catria. Sono partiti dunque gli attesi ed importanti lavori per realizzare il marciapiede che collega il capoluogo con la frazione di buon consiglio. Ci abbiamo messo un po' di tempo in più rispetto a quanto preventivato ha spiegato il sindaco Daniele Tagnani perché era intenzione dell'amministrazione comunale portare a termine l'intera opera e quindi un pochino in più però alla fine si è fatto tutto. Guardia medica rischio segnalato da ottobre la consigliere Micaela Vitri. Effetto domino previsto sull'onda di Vallefoglia. Già da ottobre avevo presentato, ha detto la consigliere, le prime segnalazioni in cui paventavo i rischi della chiusura della guardia medica a Mondolfo. La maggioranza in regione si è mossa tardi quando ormai gran parte dei medici purtroppo se ne erano andati. E il problema della guardia medica continua a tenere alto il contrasto, le polemiche per quanto riguarda questo importante servizio e vediamo come i consiglieri intervengono quasi ogni giorno per sollecitare la soluzione di questo problema di cui soffrono in modo particolare Mondolfo e la città di Fano. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di quello che ci sarà quest'estate nelle spiagge. Spiaggia proibita da mezzanotte ed eroghe per gli chalet con bar. Sono stati confermati i divieti per evitare i bivacchi e i raid vandalici. Il sindaco valutiamo per gli arenili liberi. Torna dunque la spiaggia blindata soprattutto per questioni di sicurezza anche se da questa stagione turistica i divieti relativi agli assembramenti non ci saranno più. Permangono però i divieti. Quelli che non scompaiono ormai sono i teppisti che danneggiano i lettini, danneggiano gli ombrelloni, insomma le strutture balneari di cui fanno le spese poi i concessionari di spiaggia. La sicurezza deve essere uno degli provvedimenti da tenere in prima considerazione per quanto riguarda poi le presenze turistiche perché se non c'è sicurezza i turisti non vengono. Ancora danni ai tavoli nei giardini Anna Frank vediamo come i teppisti sono sempre presenti. Alcune cittadine chiedono al Comune di intervenire per risistemarli e aumentare i controlli soprattutto nelle aree verdi. E vediamo ora la pagina regionale perché da domani cambia molto per quanto riguarda la sicurezza in termini sanitari. Da domani entrano in vigore nuove regole. Ecco cosa cambia e cosa resta. Termina oggi a mezzanotte lo stato di emergenza proclamato dal Governo il 31 gennaio del 2020 per gestire l'epidemia da coronavirus. Il decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri introduce a partire da domani, primo aprile, l'allentamento delle misure di gestione dell'epidemia. Il certificato verde non sarà più necessario ad esempio negli uffici pubblici come pure dal barbiere per entrate in banca o alle poste in tutti i negozi, gli alberghi e i mezzi di trasporto pubblico. Gli over 50 Novax potranno lavorare con un tampone negativo. Termina anche il sistema delle zone a colori. Dunque non ci saranno più zone bianche, gialle, arancioni e via dicendo. Poi vediamo che il monitoraggio viene sciolto, viene sciolto il comitato tecnico e scientifico e non sarà più attiva la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo che è stato appunto dimesso con tanti complimenti per quanto ha fatto. Comunque le precauzioni sono sempre da osservare in maniera particolare. Sono molto opportune perché il virus continua a diffondersi. Infatti ieri nella nostra regione si sono verificati 2.415 casi di positività al virus e soprattutto 5 decessi correlati appunto all'epidemia. Quindi molta molta attenzione. Giriamo le pagine e vediamo le pagina di Pesaro dove si parla dell'arretramento della ferrovia. È un po' il tema più importante che emerge dai giornali di oggi. Vediamo che sia il resto del Calino che il Corriere Adriatico hanno dedicato intere pagine. Perché? Perché sembra assodato ormai che questo provvedimento venga assunto per quanto riguarda Pesaro, ma rimangono fuori Fano e Mondolfo. Insomma Pesaro beneficia ancora una volta di un provvedimento importante per il suo assetto urbanistico ma anche per il suo assetto della viabilità, dell'economia, insomma di tutto. Perché poi spostare la ferrovia vuol dire lasciare molto terreno libero e chiudere quella frazione, quel perimetro che ostacolava insomma le comunicazioni da una parte e l'altra e quindi quello che era periferia un tempo ora diventa un vero e proprio agglomerato urbano. Invece Fano e Mondolfo rimangono alla frutta, rimangono alla frutta, rimane alla frutta Marotta, tutto Pontesasso, Metauriglia, rimane il Lido, la Sassonia per quanto riguarda Fano e per questo insorge il sindaco Massimo Seri. Un piano da 5 miliardi ha detto non può calarsi su una linea del secolo scorso. Ribatte anche Nicola Barbieri, il sindaco di Mondolfo. Prolungamento del bypass non accolto. Noi però continuiamo ad insistere nei confronti del Ministero delle Infrastrutture. Restiamo contro la costruzione continua di barriere antirumore. E questo è un altro problema che riguarda le ferrovie perché queste barriere altre 9-12 metri costituiscono un diaframma che dal punto di vista turistico è del tutto da evitare e protesta il sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi. Acquaroli convoca ai sindaci questi numeri insostenibili. Un convoglio ogni 8 minuti è quello che si tema poi per quanto riguarda la ristrutturazione delle ferrovie. Presto ci sarà un incontro con il Ministro. E su questo tema vedremo che interviene anche l'assessore regionale Francesco Baldelli. Ed ora parliamo del pronto soccorso perché veramente le dimissioni che ha presentato Gnudi, l'ex primario del reparto, hanno destato delle dimissioni a catena. Pronto soccorso, medici in fuga. Dopo Gnudi se ne vanno altri 5 medici. E ieri è stata convocata una riunione d'urgenza a Marche Nord con i dimissionari. Arriva anche l'assessore Saltamartini, il quale ha pregato ovviamente i medici di restare. È stato comunque in questo incontro rappresentato il grave disagio lavorativo e l'azienda chiede un ripensamento e promette migliorie. Non è un problema di carattere economico, dicono i medici che se ne stanno per andare. È un problema di lavoro, di organizzazione del lavoro, soprattutto di stress. I medici hanno rappresentato il disagio di lavorare in una condizione di burnout, che sarebbe lo stress, per la carenza di personale. Una situazione che si trascina da due anni con l'emergenza Covid e che via via, mentre la pandemia si sta risolvendo, si è aggravata. Perché poi la carenza di personale non si riferisce soltanto al Covid, ma si riferisce anche a tutte le altre patologie che fanno riferimento tutte al pronto soccorso. Oltre 300 dosi con i profughi negli hub si limano le sedute. Ad aprile l'ex-aristo di Pesaro rimarrà aperto la mattinata soltanto sei volte in tutto. Lo stesso calendario è stato previsto anche per i centri di Fano e Durbino. Più di 300 vaccini negli ultimi giorni di marzo sono stati praticati nel hub di Torraccia. Uno su sei sceglie il Novavax e una cinquantina di somministrazioni sono state date ai profughi ucraini. Ad aprile il calendario sarà ancora più ridotto. E vediamo altri titoli, qui vediamo la cronaca, sottopasso stretta sui controlli, ma sono spariti i rapinatori ragazzini, i rapinatori che avevano così commesso diverse rapine sui passanti che passavano su questa forca caudina del sottopasso dei cappuccini. E poi vediamo un altro rincaro. Bollette non è un pesce d'aprile, sembra che da domani, primo aprile, aumentino ancora gas e luce. Lo ha comunicato Era. Dice non è colpa nostra, è colpa un po' della situazione generale. Ebbene i primi tre mesi del 2022 sono stati contraddistinti da vertiginosi aumenti che aumenteranno ancora di più. Infatti dalle prime stime sono previsti altri rialzi. Un 20% per la corrente elettrica e un 2% per il gas. D'altre parti vediamo come il gas diminuisca del 10%. Qui invece vediamo come il gas aumenta del 2%. Sono i misteri delle contrattazioni. E concludiamo la rassegna stampa sul Corriere Adriatico. Passando per Vallefoglia dove si parla della ciclovia che ha avuto il Via Libera, l'ok della giunta regionale allo schema di accordo con la provincia, mentre a Durbino si parla di turismo. Parola d'ordine e insieme, ovvero collaborazione. C'è stata la seconda conferenza organizzata dal Confcommercio al Sanzio. Presente anche il governatore Acquaroli. Comunicazione, promozione, sinergia e temi portanti. Varotti, il presidente provinciale dell'associazione di categoria, ha detto territorio largato, urbino e diamante. Ovvero è la cosa più preziosa per quanto riguarda l'attrazione turistica. E sul resto del Carlino vediamo come la pagina di Fano è dedicata soprattutto soprattutto all'addio al Green Pass. Questo documento che è stato contestato, contestatissimo da coloro che non tanto non volevano vaccinarsi, ma che consideravano un sopruso l'esclusione dal lavoro e da tante altre situazioni senza il vaccino. Addio Green Pass, nei saloni ma resta l'allerta. Sono i parrucchieri che in questo caso possono allentare le misure di sicurezza, ovviamente mantenendo tutte quelle condizioni di prudenza che sono necessarie. Alcuni sono stati felici di esibire il documento, altri si arrabbiavano. Non c'è chi promette di fare rispettare l'uso della mascherina, sempre opportuno e in modo particolare all'interno dei locali. E se ne va un intellettuale raffinato, città in luto per Rodolfo Collarizzi. I suoi funerali si celebreranno sabato alle ore 15 in Duomo. Un saluto di tante persone per un uomo che amava molto la sua città. Ciclabile Metauro a Fano, 3,9 milioni di euro. Si parla di quanto discusso in Consiglio Comunale in merito alla ferrovia Fano-Urbino e alla ciclabile che dovrebbe costeggiarla. L'investimento per quanto riguarda il tratto che ci interessa è di circa 4 milioni di euro. E poi l'articolo di Lucarelli che conferma il progetto Plenair. Si parte il suolo pubblico alle attività, verrà rinnovata la concessione. A Manotta invece si rinforzano le scogliere con 360 mila euro. L'amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 250 mila dalla Regione e poi c'è un cofinanziamento da parte del Comune di altri 110 mila euro. A Urbino, studenti in difficoltà per i costi dell'energia. Gli incrementi nella bolletta non sono affatto una passeggiata per molti ragazzi che oltre alle spese per quanto riguarda il vitto all'alloggio devono sostenere anche quelle dell'energia elettrica. Alcuni ne prendono coscienza e diventano molto molto attenti ai consumi. Anche loro imparano a risparmiare. La filiera del grano soffre, anche questo è un altro indice del caro vita. Rincari mai visti nel settore dalla spiga al mulino fino al pastificio. Tutti vivono l'attuale situazione con grande attenzione e in più aumenta anche il costo dell'energia. Insomma, il pane e la pasta sono degli alimenti base per tutta la tradizione culinaria, gastronomica del nostro paese e quindi ogni aumento, anche ogni piccolo aumento che si applica in questo settore costituisce un'ulteriore difficoltà per le famiglie in modo particolare per quelle che non riescono ad arrivare alla fine del mese. E vediamo sulla pagina di Pesaro come si parla dell'arretramento della ferrovia. Esulta il sindaco Ricci di Pesaro. Comunque non ha dimenticato né Fano né Mondolfo perché ha chiesto insistentemente che anche queste due località vengono interessate dal provvedimento però insomma al momento sembra che non gliel'abbia fatta. Seri guida la locomotiva della protesta. Tracciato assurdo. Due curve a fosso sei ore. Il sindaco si schiera contro il progetto che esclude Fano dall'arretramento. Inviterò il ministro per fargli vedere l'impatto sul territorio al dichiarato. E qui abbiamo invece la rabbia del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri risolvono i problemi di Pesaro e intanto aggravano quelli di tutti gli altri centri costieri e infatti ne soffre in modo particolare Fano e Mondolfo. E qui abbiamo l'assessore alla sanità regionale Salta Martini che prega i medici del pronto soccorso di Pesaro di restare appunto al loro posto di lavoro e poi pieni di ordine e anche di cassa integrazione un paradosso produttivo lamentato dalla CNA. Piovono richieste di ammortizzatori sociali del settore dell'artigianato. Rossini della Will è l'anello debole della catena. E qui vediamo Morino Bordoni segretario generale della CNA di Pesaro. E questo è tutto per il momento. Posso soltanto aggiungervi che il Fano Calcio ha conquistato tre punti con il Tolentino ed ora vede meno tre il traguardo della salvezza. Con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alla giornata di domani alle ore 7. A risentirci. Grazie. 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 Grazie.